Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, approvata in prima commissione la proposta di risoluzione che chiede ulteriori forme di autonomia per la Regione Umbria. Vediamo. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che prevede l'apertura di un tavolo con il Governo nazionale per richiedere ulteriori forme di autonomia per la Regione Umbria. La commissione si è riunita dopo un'ulteriore fase di partecipazione pubblica per l'approvazione dell'atto, convocata dopo la condivisione di alcune proposte di modifica avanzate dal consigliere Roberto Morroni di Forza Italia ed ha registrato il consenso di tutti i componenti, ma con l'assenzione tecnica, per ulteriori approfondimenti sul testo, del consigliere Valerio Mancini della Lega. Ha approvato anche un emendamento con il quale si stabilisce che della delegazione che dovrà condurre la negoziazione con il Governo nazionale facciano parte la Presidente della Giunta, Catiuscia Marini, la Presidente dell'Assemblea Legislativa, Donatella Porzi e il Presidente e Vicepresidente della Prima Commissione, Andrea Smacchi e Maria Grazia Carbonari. Il relatore in aula del provvedimento sarà lo stesso Presidente Smacchi. Nel dispositivo dell'atto è previsto l'impegno per la Presidente della Giunta, Catiuscia Marini, a proseguire nel rapporto di collaborazione avviato con la Regione Marche e a tenere conto dell'istanza del CAL, con cui si condivide il percorso insieme alle Regioni Toscane e Lazio. Si stabilisce inoltre che con il Governo sia definito il complesso delle competenze legislative e amministrative nelle materie per le quali si chiedono ulteriori forme di autonomia e che, nelle more dell'intesa, si lavori ad una più precisa definizione delle richieste sui temi oggetto di negoziato e delle forme di finanziamento, da sottoporre poi all'esame della competente Commissione Consiliare e dell'Aula. Il Presidente della Giunta dovrà periodicamente informare l'Assemblea Legislativa sull'andamento del negoziato e sull'esito finale. Infine, prima della firma definitiva dell'accordo, dovranno essere attivate, anche in collaborazione con la Prima Commissione, forme e modalità di coinvolgimento degli enti locali, delle parti sociali e dei soggetti interessati. Finalmente ci siamo. La Prima Commissione ha deliberato questa mattina la proposta di risoluzione in tema di maggiore autonomia. L'atto andrà in Aula il 19 e poi inizierà il confronto con il Governo. Abbiamo fatto una proposta che riguarda materie fondamentali per la ripresa, per lo sviluppo della nostra regione. Parliamo di economia, parliamo di lavoro, parliamo di infrastrutture, parliamo di ricerca, parliamo anche di tutto quello che riguarda la sismica e la ricostruzione. Tutto questo per semplificare, meno burocrazia, maggiore autonomia della nostra regione. Noi siamo un modello, abbiamo i conti a posto e ce lo possiamo permettere. Quindi la nostra regione potrà sul tavolo del Governo avere un ruolo fondamentale. Il consigliere regionale Andrea Smacchi del Partito Democratico ha illustrato ai membri della Terza Commissione la proposta di legge che prevede norme per il sostegno dei genitori separati in situazioni di difficoltà. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. Avviata l'istruttoria sulla proposta di legge a sostegno dei genitori separati in situazioni di difficoltà che il consigliere del Partito Democratico Andrea Smacchi ha presentato ai membri della Terza Commissione presieduta da Tiliossolinas. La proposta di legge a spiegato Smacchi si lega alla riduzione pro quota triennale dei vitalizi, destinando le minori risorse elargite per i vitalizi stessi al sostegno dei genitori separati che si trovano in difficoltà. Si vuole intervenire sulle difficoltà finanziarie in cui vengono a trovarsi coniugi separati o divorziati attraverso l'assistenza e il reperimento di alloggi anche temporanei per ospitare chi deve uscire dalla propria abitazione, l'assistenza legale e supporto psicologico. Prevede anche misure di social housing che sono già a disposizione dei comuni. Le risorse ammontano in totale a 900 mila euro per tre anni. Secondo gli ultimi dati Istat, Molise, Puglia e Umbria sono regioni italiane in cui il trend nazionale dei matrimoni è in diminuzione. In Umbria i dati parlano di 1.324 separazioni e 952 divorzi. Audizione della terza commissione sulla mozione presentata da Carla Casciari sull'instaurazione di una filiera corta per valorizzare la qualità della carne ottenuta dall'attività di contenimento della specie cinghiale. Il servizio di Paolo Giovagnoni. La terza commissione consigliare presieduta da Tilio Solinas ha ascoltato in audizione i rappresentanti delle associazioni venatorie, degli ambiti territoriali di caccia, dell'università, dell'istituto zooprofilattico, degli agricoltori e delle USD Umbre per conoscere il loro parere, che in linea di massima risultato positivo, sulla mozione presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico, Carla Casciari, avente ad oggetto l'instaurazione in Umbria di un sistema di filiera corta che sappia valorizzare la qualità della carne ottenuta dall'attività di contenimento della specie cinghiale. Carla Casciari ha spiegato che l'atto intende contribuire alla diminuzione dei danni procurati dalla specie cinghiale dato che gli abbattimenti sono risultati inferiori al bisogno e si vuole istituire una filiera corta per l'utilizzo della carne come fatto già in Emilia Romagna, valorizzando un prodotto con un apposito marchio di garanzia. Ovviamente per mettere in atto una filiera di carni che possano finire sulle tavole va normato un sistema che preveda, oltre alle istituzioni regionali e locali, gli ATC, il Dipartimento di Prevenzione del Servizio Sanitario, i parchi dell'Umbria, questi ultimi luoghi di maggiore presenza degli ungulati. Per quanto riguarda i danni provocati dai cinghiali, l'Associazione dei Coltivatori e gli agricoltori, che in molti casi sono anche cacciatori, hanno chiesto di poter intervenire sulle loro proprietà senza dover attendere l'intervento delle squadre di cinghialisti, che avviene a chiamata dopo però che il danno è stato fatto. Un quesito cui risponde la modifica del regolamento regionale del 2010 annunciata dall'assessore all'agricoltura Fernanda Cecchini, che proprio la terza commissione di Palazzo Cesaroni sarà chiamata ad approvare. La modifica prevede tempi più brevi per l'intervento diretto da parte dei proprietari o dei conduttori dei fondi agricoli in cui i cinghiali stiano danneggiando le produzioni agricole. Il consigliere regionale Claudio Ricci, del gruppo misto Ricci-Presidente Italia Civica, interviene in merito alle ultime vicende relative all'attività dell'aeroporto San Francesco d'Assisi ed in proposito annuncia la presentazione di una mozione ed una interrogazione in cui propone alla Giunta regionale di rimodulare il piano industriale di sviluppo aeroportuale periodo 2018-2020 in correlazione con la SASE, la società di gestione dell'aeroporto, attraverso un adeguato approfondimento nella seconda commissione consigliare e con l'obiettivo di ampliare le linee aeree stabili e annuali. Tutto questo sviluppando accordi con le compagnie aeree low cost, solide e dotate di incisiva penetrazione commerciale nel mercato, anche per basare, conclude Ricci, uno o due aeromobili all'aeroporto con stazionamento e servizi di gestione. Il portavoce del centrodestra, Marco Squarta, dei Fratelli d'Italia, annuncia la presentazione di una interrogazione per sapere dalla Giunta regionale quanti milioni di euro sono stati erogati dalla Regione per sostenere le spese sanitarie di clandestini regolarmente presenti in Umbria dalle 2014 ad oggi. Nelle chiedere anche il numero preciso dei migranti che negli ultimi quattro anni si sono serviti del nostro sistema sanitario, Squarta auspica che il denaro anticipato per l'assistenza primaria ai clandestini venga immediatamente restituito agli Umbri e investito nell'ambito sociale. La Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari presieduta da Silvano Rometti ha dato seguito anche nella ultima riunione all'analisi di alcune modifiche previste da apportare allo Statuto regionale. Con il supporto dell'Ufficio legislativo di Palazzo Cesaroni i commissari si sono confrontati ed hanno espresso suggerimenti in merito da alcuni articoli della Carta Statutaria riguardanti la concertazione, l'integrazione europea e i rapporti con l'estero, le competenze del Consiglio delle Autonomie Locali, le modalità previste rispetto alle diverse tipologie di iniziative legislative. Ed ora riproponiamo la presentazione avvenuta a Palazzo Cesaroni nei giorni scorsi di una ricerca sull'uso del web da parte degli adolescenti curata dall'Università di Perugia e commissionata dalla Corecom dell'Umbria, il servizio. Il 99% degli studenti delle scuole superiori di Perugia e di Ternius ha Whatsapp e quasi la metà di loro ha inviato messaggi privati o offensivi nei confronti di altri. Si comincia a entrare nella rete a 9 anni insieme ai genitori, a 11 anni si possiede il proprio smartphone. Quasi il 40% degli adolescenti ha escluso qualcuno dai gruppi virtuali almeno una volta o due volte al mese. Questo si definisce cyberbullismo soft, leggero. Sono alcuni dei dati scaturiti dalla ricerca che il Corecom dell'Umbria ha commissionato a Maria Giuseppina Pacilli, docente di Psicologia Sociale dell'Università degli Studi di Perugia, illustrata e poi discussa in una tavola rotonda, a cui hanno preso parte insegnanti, studenti, rappresentanti delle prefetture di Perugia e Terni, dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, della Polizia Postale, l'On. Elena Ferrara, promotrice della legge 71 del 2017, Mario Morcellini, commissario dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Maria Rita Bracchini, vicepresidente del Network Europeo Antibullismo, e il professor Rolando Marini, sociologo della comunicazione dell'Università per i stranieri di Perugia. Da questa ricerca emergono due indicazioni importanti. La prima è relativa alla centralità del web nella vita degli adolescenti. I nostri partecipanti iniziano ad usare internet molto presto, sia con i genitori che da soli. La maggior parte di loro ha almeno un profilo su un social network, la maggior parte di loro usa WhatsApp, e detto questo, resta un altro punto fondamentale da esaminare nel nostro lavoro, che riguarda il cyberbullismo. Un aspetto importante emerso dal nostro lavoro riguarda la molteplicità di facce che questo fenomeno presenta. Di solito tendiamo a identificare il cyberbullismo soltanto nelle sue forme più manifeste di violenza conclamata. In realtà è opportuno, anche per effettuare interventi efficaci, identificare le forme più sommerse, i comportamenti più quotidiani, che possono essere però altrettanto dannosi e pericolosi per chi li subisce. Il 78% degli adolescenti intervistati si collega da smartphone. Fino a qualche anno fa, invece, avveniva attraverso il computer di casa, in una maniera più condivisa rispetto a quanto avviene oggi, con i ragazzi che parlano raramente o mai con i propri genitori e mai si fanno aiutare da loro di fronte a qualcosa che li turba online. Quasi il 30% di loro ha ricevuto richieste di foto nude di sé. I social network sono usati anche di notte, quando non solo disurbano il sonno, ma provocano difficoltà di concentrazione. Un considerevole numero di ragazzi diviene attore, spettatore o vittima di episodi di cyberbullismo, che può essere definito soft, nei casi in cui si esclude qualcuno da un gruppo, ma le conseguenze di ciò su un giovanissimo non sono tanto leggere, mentre quello hard si rivela attraverso comportamenti di manifesta ostilità. Più della metà dei ragazzi intervistati, il 61,6%, ha escluso qualcuno, mentre il 91% ha dichiarato di aver assistito almeno una volta negli ultimi due mesi a episodi di cyberbullismo. La ricerca, presentata dal Core Comumbro, scaturisce a poca distanza dall'approvazione della legge regionale di contrasto al bullismo e al cyberbullismo d'iniziativa della Presidente dell'Assemblea Legislativa, Donatella Porzi, e del capogruppo dei socialisti, Silvano Rometti. Una legge che non cambierà il mondo, ha detto la Presidente dell'Assemblea, ma se cambiasse la vita anche di una sola persona, di un ragazzo che sta soffrendo, la potremmo considerare già un successo. Il 26 aprile di questo anno abbiamo concluso l'iter in aula per l'approvazione della legge sul cyberbullismo, una legge che ho fortemente voluto insieme al collega Rometti, in quanto convinti che un argomento di questa portata non poteva essere raccolto in un paio di righe in una legge per i giovani. E questa ulteriore ricerca, questo particolare approfondimento che stamattina verrà presentato, sarà un'occasione in più per avere dei dati importantissimi che ci vengono offerti da quel mondo che appunto da bullismo e cyberbullismo sono in qualche maniera interessati. Un'occasione in più per comprendere quali sono i bisogni su cui intervenire in maniera puntuale e tempestiva. Una giornata veramente molto importante per il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria, perché presentiamo i dati di una ricerca commissionata e finanziata dal Corecom che ci permette di analizzare non solo l'uso dei media da parte degli adolescenti umbri, ma in particolar modo di analizzare con particolare attenzione i rischi che ci sono nel web. E quando parliamo di rischi, è inevitabile parlare di cyberbullismo. Noi prima di muoverci come Comitato regionale per le comunicazioni, anche per capire quali possano essere le azioni necessarie per poter arginare questo fenomeno, non da solo ovviamente, ma con la collaborazione con le istituzioni regionali, con le associazioni precedenti nel territorio, è stato necessario effettuare questa ricerca che ci permette di dare uno sguardo molto in profondità sul problema del cyberbullismo, che è un problema che esiste, non bisogna nascondersi dietro un dito e che quindi per poterlo meglio affrontare bisogna prima di tutto conoscere. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana.